questa poi è più bassa ah vedi che era lui davvero vieni vieni io non vengo su a piedi vieni giù te in moto chi è che vuoi chi è che vuole ha sicuramente fatto qualche casino per essere già tornato indietro ha detto che ti vuole a te non lo so che cosa vuole la partita il manubrio avrà combinato sicuramente qualche cagata ma garantito no stavolta non mi vuole ti vuole a te vuole un professionista stavolta si è nuovo ma ha detto vieni che impari un po' arriva con la tasca che è tutto accaduto su inizia dai l'ha fatto anche il cifone quello lì una volta sola dopo non so dove è andato però l'ha fatto vedi è bella misurata giusta bravo tanto ti dice che è un cancello quello si è un problema è il sedere che tocca ovunque ovunque lo stai attento o ti ammazzi vai ragazzi dai 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 su che dopo vado a filmare il gargamello a vedere cosa ha combinato si sicuro a parte le palle ha rotto qualcos'altro a parte le palle allora il peso lo stai attento non so ночi